Yves Rocher nasce in Francia alla Gassilie nel 1959 quando Yves Rocher, botanico, produsse nel granaio di famiglia la sua prima crema vegetale. Da oltre 50 anni Yves Rocher studia le virtù delle piante per creare una cosmetica vegetale esclusiva che unisce efficienza, sensibilità ed etica. Dall'unione della natura e ricerca scientifica nascono linee cosmetiche mirate per viso, corpo, capelli, make-up e profumo, alle quali si aggiungono gli integratori alimentari. Ancora oggi in Bretagna Yves Rocher ha la propria sede, i laboratori, i 55 ettari di Campi Pio e il giardino botanico con più di 1100 specie dedicato alla conservazione, alla ricerca e all'insegnamento della biodiversità vegetale. Sono oltre 700 i prodotti cosmetici tutti testati sotto controllo dermatologico e dai risultati scientificamente provati. Le formule si basano su principi attivi vegetali efficaci che agiscono intensamente sulla pelle frutto dei laboratori di ricerca che contano su 150 ricercatori specializzati nel funzionamento della pelle e dei vegetali. La cosmétique vegetale, l'arte di formulare il vegetale. La cosmetica vegetale vuol dire 150 ricercatori esperti del vivente dalla pianta alla pelle che mettono le proprie capacità, conoscenze e abilità per trattare il vegetale e migliorare la sua assimilazione da parte della pelle. Lavorano per formulare con passione e rigore trattamenti d'eccezione che preservino il benessere della pelle e rendono le donne ogni giorno e ad ogni età testimoni di una bellezza viva e luminosa. Diventa consigliera di bellezza, un'attività unica e stimolante da gestire in piena autonomia. Vuoi trovare l'armonia tra lavoro e famiglia? Vuoi avere la libertà di organizzare il tempo da dedicare al lavoro secondo i tuoi ritmi e le tue esigenze? Vuoi realizzare guadagni unici ed essere più autonoma? Con Yves Rocher hai l'opportunità di lanciarti in una nuova attività stimolante e flessibile che non richiede un'esperienza specifica né un investimento iniziale. Scopri il piacere di entrare a far parte del mondo Yves Rocher che diffonde la cultura della bellezza e dello star bene attraverso il potere delle piante nel rispetto della natura. Chi è la consigliera di bellezza Yves Rocher? La consigliera divulga un marchio riconosciuto e affidabile, diffonde una cultura della bellezza e dello star bene, insegna a prendersi cura del proprio corpo con prodotti efficaci e certificati. Come si diventa consigliera? Entrare a far parte di Yves Rocher vendita diretta è molto semplice poiché non è richiesta nessuna esperienza specifica e nessun investimento. Yves Rocher ti accompagnerà nei primi passi e nel tuo percorso di crescita. Basterà il tuo entusiasmo per coinvolgere chi ti sta vicino ed il gioco è fatto. Cosa aspetti? Manchi solo tu. Questo mondo fa parte di te se desideri avere un'attività autonoma con guadagno immediato. Se ami il mondo della bellezza naturale, se vuoi conoscere tante persone, se vuoi avere tante soddisfazioni. Il viaggio sta per iniziare. Nel tuo bagaglio metti solo entusiasmo e determinazione. A tutto il resto ci penserà Yves Rocher. Aver scoperto le proprietà delle piante non è il nostro più grande merito, ma averle messe a disposizione di tutti è il nostro orgoglio. Aver scoperto le proprietà delle piante non è il nostro orgoglio. Aver scoperto le proprietà delle piante non è il nostro orgoglio. Grazie.